nel marzo del 2018 a pochi giorni dalle elezioni politiche che si erano tenute il 4 marzo del 2018 uscimo con questo libro una nuova italia era una analisi quasi in presa diretta quasi in tempo reale proprio del voto del 2018 le elezioni che hanno prodotto il parlamento che tuttora è in carica in occasione di quelle elezioni scrivemmo questo libro che provava a raccontare aspetti come il contesto di fondo del paese le strategie di comunicazione il ruolo dei media i risultati la geografia del voto un libro che poi abbiamo presentato quell'anno anche all'unione industriale a torino la prefazione scritta da marco da milano direttore dell'espresso diceva alcune cose che penso siano particolarmente rilevanti oggi ve ne leggo un breve estratto è dunque questo il fattore di lungo periodo che porta al voto del 4 marzo 2018 il vuoto il vuoto di rappresentanza cominciato dalla metà degli anni 70 con il referendum sul divorzio è accentuato e accelerato dalla scomparsa dei partiti tra il 1978 la tragica morte di aldo moro e il 1992 93 la tempesta di tangentopoli oggi il vuoto è aggravato dalla solitudine e dal deserto in cui si trovano gli elettori senza più alcun punto di riferimento né politico né internazionale non tardo ad avvertire un senso di solitudine e di spaesamento scriveva italo calvino in questo spaesamento che è tale per i politici e per il sistema mediatico ma non per chi in queste condizioni di solitudine è costretto a vivere la sua quotidianità i desideri le speranze le paure si frantumano fino a diventare individuali parole che descrivevano l'italia del 2018 parole che ci aiutano forse anche a dar forma alla difficoltà che molti di noi stanno vivendo in questa italia del 2020